Nella foto di quell'uomo legato ad un albero ad Andria e che nelle ultime ore ha fatto il giro della web sta suscitando sconcerto ed indignazione. Mentre sulla vicenda sta indagando la polizia cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto abbiamo ascoltato il responsabile di casa accoglienza Santa Maria Goretti di Andria, Don Geremia Acri e queste sono le sue parole. Solo un piccolo appunto ai media nazionale. Mi piacerebbe, fanno bene a fare cronaca perché bisogna denunciare sia i giornalisti come anche il web bisogna denunciare per scoprire e ricercare la verità. Però se qualche volta i media nazionali mettessero in risalta alcune cose belle che riguardano la bellezza, alcune positività che avvengono in questa città sarebbe altrettanto magnifico. Detto questo, il web fa bene a denunciare perché la denuncia ti porta alla ricerca e la ricerca ti porta a scoprire la verità. Però a me non piace quella posizione del web, di quei professionisti del web che stanno lì dietro alla tastiera per una presunta denuncia e che molte volte serve a deridere, molte volte serve per raccogliere consensi con i cosiddetti i mi piace. Io stamattina ho fatto una cosa che non bisogna fare, l'ho fatta perché avevo bisogno di avere contezza. Ho monitorato il web, il Facebook, chiedo scusa. Beh, tantissima gente continuava a postare, continuava a commentare, continuava a mettere il mi piace. E mi sono chiesto, ma questa gente, immagino professionisti, immagino studenti universitari, immagino impiegati, immagino anche preti, il lavoro quando si lavora, quando si timbra il cartellino, quando si fa il proprio dovere, quando si evadono le pratiche, quando si sta seduti per sbrigare non un semplice foglio ma le problematiche della gente. E' questo che contesta, è questo che dico ai professionisti del web, smettiamola, il web serve per una sana e vera denuncia, non per deridere, non per autocelebrarsi per i vari mi piace. Poi per quanto riguarda il gesto commesso, io so che è stata una gravissima bravata, scandalosa e da condannare, da condannare, non è un atto di bullismo, è peggio di un bullismo, è un atto di persone imbecilli. E queste persone, che comunque conosciamo perché questo soggetto, questo signore, diverse volte è stato bersaglio, è gente perbene, è gente anche laureata, è gente che ha delle posizioni, che si diverte perché magari la sera ha finito di farsi la sua serata o il pomeriggio non sa cosa fare perché divaga nel centro e quindi offre un euro a questo signore, che purtroppo è un disabile mentale, è un uomo, è un uomo che ha dei problemi. E loro si divertono, continuano a divertirsi, a ridere perché gli offrono un euro e lui va a comprarsi la birra. Allora preferisco più amare, più stare vicino, accanto a questa persona e non a questi tali che si definiscono uomini, che si definiscono giovani, che si definiscono adulti, che vogliono cambiare le sorti dell'Italia, della città. Ma come faranno a cambiare queste sorti? Denigrando l'uomo? Calpestando la dignità dell'uomo? Non è il primo caso questo, perché già qualche mese fa si è verificato un caso analogo nelle modalità, perché qualcuno ha pensato di riprendere un immigrato, un extracomunitario, che nudo si lavava al fontanino della villa comunale. Tutti a gridare allo scandalo per chi era stato appunto ripreso, ma pochi hanno sottolineato il ruolo di quelli che l'hanno ripreso. E' di una stupidità enorme fotografare e postare. Ti sei divertito, vi siete divertiti, vabbè lasciate perdere, ma non mettete al pubblico ludibrico questa persona, che non ha colpa perché è debole e i deboli vanno difesi a tutti i costi e con tutti i mezzi. Quindi lì ci si era scandalizzati per un corpo nero. Io dicevo all'epoca, ma come mai non ci scandalizziamo di quello che avviene nei nostri palazzi istituzionali? Come mai non ci scandalizziamo? Siamo ipocriti, mi ci metto anch'io, ipocriti, falsi, perbenisti.